ciao a tutte allora benvenuti in una nuova tipologia di video dove vediamo se vale la pena o meno acquistare un prodotto quindi se con il test del campioncino vale la spesa dunque il primo che vi mostro è sicuramente questa qui che adesso la recupero questa qui della spuma di champagne d'auté la nuova linea crema corpo con argan questa qui allora questa devo dire in prezzo da qualche parte l'ho segnato che 750 ml vengono 3 ore 20 non è male allora è questa nuova linea della spuma di champagne d'auté per me è fantastica come un'altra anche che vi ho mostrato questa comunque nutriente è una crema corpo che è è fluida si stende bene sorbe velocemente e non appiccica la pelle considerate che con un campione da 8 ml io ho fatto tutta la parte superiore del corpo è un profumo che con l'argan si è infatti mi ricordavo bene è caldo e avvolgente e dura sulla pelle anche un paio di ore è la profumazione che mi piace ma ricomprerei in inverno comunque sia 3 ore 20 vale la spesa assolutamente sì e questa dico anche che la compro andiamo avanti e sempre della linea spuma di champagne d'auté ho provato anche questa crema corpo questa con orchidea dice di essere rigenerante quindi sempre 750 per 3 ore 20 questa qui allora cosa dire di questa come l'altra versione comunque sia è fluida e si stende bene non lascia scia bianca assorbe velocemente e non appiccica la pelle idrata sì è il profumo che non mi piace è un profumo all'orchidea quindi uno deve piacere l'orchidea e a me piace ma questo è molto fiorito non è orchidea è fiorito quindi deve piacere questo tipo di profumazione a me personalmente non piace mi piace profumo all'orchidea ma questo è troppo dolce troppo fiorito non è adatto a me quindi per il resto un buon prodotto in questo caso vale la spesa dipende se piace o no se piace sì io non lo ricompro perché non mi piace questa profumazione andiamo avanti altro prodotto in questo caso avevo due campioni della linea codali linea vino perfect che io ho provato vari prodotti e li ho bocciati tutti fortuna che finalmente un prodotto che si salva allora vino perfect questa è la crema notte e per pelle normale io avevo questi due comunque me ne mostro e mi ha rimesso a fuoco mi ero persa allora è cosa dire di questa crema prezzo prima di tutto 40 ml 28 euro e 60 sul loro store ufficiale allora è una crema che ha una texture ricca ma comunque sia che si stende bene sulla pelle basta pochissimo prodotto perché io questi due campioni da 3 ml uno mi dura una settimana ho usato tutte le sere quindi basta poco prodotto si stende bene assorbe molto velocemente e sulla mia pelle mista al mattino non mi trovo con la pelle unta ma anzi è bella nutrita idratata quindi un prodotto che mi è piaciuto incredibile l'ho provato anche nel periodo estivo sempre la sera ed non mi trovavo la mattina con la pelle unta quindi promosso 28 euro 60 vale la spesa sì in questo caso assolutamente sì altro prodotto che vi mostro è questa maschera della elvive maschera per i capelli che si chiama olio straordinario e con olio di cocco per capelli da normali a secchi dunque dice di essere una maschera mille un usi perché si può usare sia sui capelli bagnati sia sui capelli asciutti quando ho visto la confezione 10 ml bella grande ho detto c'è tanto prodotto quindi posso magari provarla con vari usi invece no ci sono rimasta un po male perché comunque sia c'era poco prodotto metà circa quindi l'ho usato solo per un'applicazione prezzo 300 ml 5 euro 50 altigota l'ho trovata allora ho provato questa maschera applicandola dopo aver lavato i capelli l'ho messa in posa per circa cinque minuti e poi l'ho risciacquata e devo dire che i capelli erano subito più morbidi e più pettinabili con una piccola parte restante sono andata a tamponare i capelli per rimuovere l'eccesso d'acqua poi sono andata a applicarla sulle lunghezze e sulle punte e poi l'ho lasciata in posa non l'ho rimossa perché senza il sciacquo e ho lasciato asciugare i capelli all'aria e devo dire che sono rimasti mossi ma comunque se non si sono gonfiati e questa è una buona cosa anche per chi deve andare magari a metterli in piega dopo e mi è piaciuta per questo motivo trovo che peccato per il campione avevo voluto provare altri usi ma comunque sia può valere la pena devo dire che però il prezzo è buono vale la spesa dipende se siete attenti a cosa mettete sui capelli perché in questo inci ho trovato tantissimi siliconi e allercizzanti e sensibilizzanti quindi se non ve ne frega niente o se siete abituate e vedete che non vi fa niente e alla cute perché no e in altro caso se siete più sensibili e cute sensibile oppure se state attenti a veri prodotti giusti non è sicuramente un prodotto che vi consiglio allora ultimo prodotto in questo caso vi mostro questo che è della Vichy Slow Age Nuit dice di essere una crema e maschera fresca per la notte avevo due campioni e questo qui il prodotto e dunque 2 ml per campione ho guardato il prezzo 50 ml 37 euro e 50 nella farmacia online allora ha una texture e un colore un po particolari ma comunque sia l'ho provata volentieri dunque si è applicata come crema ed è per la sera si stende bene assorbe molto velocemente e lascia come una specie di film setoso sulla pelle che la rende subito molto setosa infatti si sente che non è la pelle è la crema che ha questo film leggermente setoso ma mi piace alla mattina non mi trovo con la pelle unta e soprattutto è bella idratata applicata come maschera invece ho seguito le istruzioni si applica a uno stato più abbondante e si va a letto perché deve agire durante la notte l'ho trovata un po brigosa brigosa perché comunque sia ed vado a letto con la pelle appiccicosa e devo stare attenta a non muovermi troppo perché sennò macchio tutto il cuscino ovviamente e le lenzuola però comunque sia la mattina la pelle arriva completamente assorbita la maschera e la pelle era idratata idratata sì perché questo effetto slow age oppure anti età e anti segni del tempo io non l'ho trovata in più di una settimana d'utilizzo non ho visto questo effetto altra cosa sì che me l'ho segnata certo questo film è leggero che lascia sulla pelle alla fine ho guardato nell'inci è dimeticone in questo caso devo dire che il prodotto si ha un bel effetto si va bene idrata ma non lo consiglio e non visto anche il marchio evitiamo di spendere questi soldi per me non lo consiglio non vale la spesa e no proprio no allora fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video dove provi campioncini e vi dico se vale la pena qual è valutare la spesa e lasciatemi un like iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella qui sotto così valete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao